a vediamo se vedo la porta no qua non vedo la porta secondo me dall'altra parte l'acqua di rossi non li becco mai fidarsi del rosso il rosso lo scriviamo jump down to continue li saldo giù per continuare ok va bene adesso dobbiamo schivare questo e l'ho preso in pieno questa è la semplice tagliamo ok mi rendo le cose un po' più difficili e poi cado come uno stupido qua ebbè ok qua ho fatto un salto strano devo andare qui ho preso la croce freccia indica qua sono in sui tali non è che sono il primo a vedere c'è anche il jungle e se a dove ah no sono il primo no però c'è anche il city boh non lo so non capisco la mappa non lo so non ho capito lasciamo stare è meglio qua passiamo direttamente qua ora dobbiamo schivare di nuovo le i simboli qua aia mi ha preso ah volevo passare di fianco io ok qua è un po' di zig zag però non so ah se va sotto aia quindi mi fanno male devo schivarne schiviamo il ghiaccio che se no ci fa male freccia di qua ah ho finito snow glacial manca sea city desert ma qui c'è sea desert jungle forse sono divisi nei reparti io jungle l'ho già fatto secondo me quindi sea city desert sea city desert fa vedere solo dove sono gli altri e basta queste sea meno male ci sono tanti check point così fai un pezzo alla volta forse fin troppi i check point ecco appena l'ho detto sono morto ok andiamo qua su questi sdrai anche qua scompaiono i blocchi che vi capito delle frecce per capire dove andare allora quei rossi non li tocco questo per sicurezza lo salto devo andare su questi gonfiabili penso non in mezzo in mezzo mi ammazza quello rossi stavolta lo tocchiamo anche perchè non possiamo fare altro quale andiamo boh non lo so e sono andato in una casa ah fatto finito sea city desert c'è anche mountain si ma sono messi casualmente noi abbiamo city desert questa era l'uscita di una porta ok andiamo su questo percorso mi ha laggato non doveva laggarmi il rosso il rosso non dobbiamo toccarlo no ha laggato lagga un po' non riesce a tenere tutti questi giocatori nella mappa allora ok non c'è più una delle frecce è l'unica strada quindi restart game no neanche per sogno grazie anche se la mappa è carina se cadiamo giù secondo me ci ammazza direttamente noi dobbiamo salire su queste cose che è successo? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti